Sono quattro giorni di grandi eventi che si svolgeranno a San Sisto, ma non solo, in tutto il territorio del Monte Feltro, dove si susseguiranno tanti ospiti, tante anche orchestre, ma quello che ci interessa molto da vicino è che ci sarà anche un'offerta gastronomica interessante gestita dai ristoratori del Monte Feltro, perché poi alla fine chi trasformerà un'eccellenza come il fungo di San Sisto e lo tramuterà in un piatto della tradizione, speriamo anche questo, sono i ristoratori, perciò avremo un'offerta in quei giorni, stiamo parlando del 24-25 settembre e dell'1-2 ottobre, dove oltre agli eventi si potrà gustare non solo i funghi, ma tutti i prodotti tipici del territorio del Monte Feltro. Monte Feltro, sul quale Confesercenti da anni sta lavorando, insieme alla compagnia del Monte Feltro, altra associazione nata da Confesercenti, stiamo lavorando sulla promozione di tanti prodotti tipici. Da anni siamo impegnati insieme al patron Risiero Severi sulla promozione dei legumi di San Sisto, dove facciamo anche tante serate in tanti ristoranti della provincia, non solo del Monte Feltro. Siamo molto soddisfatti di seguire da tanti anni come Confesercenti questa manifestazione. Non vedevamo l'ora che si poteva ripartire, già dall'inizio dell'anno, quando si capiva che era possibile poter fare, ci siamo messi in movimento per riorganizzarla, perché a noi ci vuole un po', anche perché siamo pochi, per coordinare un po' tutti e c'è molto lavoro. Dobbiamo iniziare molto prima per fare tutte le varie operazioni, oltre che il programma, anche per l'accoglienza dei tanti visitatori che ci vengono a trovare, con tutte le strutture che dobbiamo mettere in piedi, poi la collaborazione con gli altri enti che ci danno la collaborazione, dalla Confesercenti, l'ente Parco, l'amministrazione della provincia, l'Unione Montana, per fare tutti questi incontri ci vuole del tempo.